Ecco l'avvio per questo servizio, ce lo dà direttamente quest'auto molto molto particolare è un'auto più unica che è rara, possiamo dire così? Sì, è un'auto veramente rara, è un'auto costruita a Torino, una SCAT, Società Costruzione Automobili Torino una macchina dell'inizio novecento con questo assetto corsaiolo priva della carrozzeria si usava così, il pilota era esposto alle intemperie, alla polvere, ai sassi la macchina doveva essere il più leggera possibile anche se come ben vedete è una macchina che ha certe dimensioni ed era tutt'altro che facile guidarla Io ho anche cercato di salirci, ho chiesto un'autorizzazione però essendo così preziosa come auto è meglio guardarla, osservarla e avere nei suoi confronti tutto il rispetto possibile proprio per la storia che porta su di sé Certo, questa auto è un'auto veramente importante, molto rara, ne esistono pochissimi esemplari che forse stanno sulle dita di una mano Questa macchina tra l'altro è in condizioni di assoluta originalità ha i suoi fari carello con la riserva dell'acetilene è un oggetto veramente prezioso, raro che non capita spesso di vedere nelle fiere Questa è un'auto di una collezione privata socio del nostro club che gentilmente ce l'ha prestata da portare in esposizione